Allora, è partito, ormai il treno è partito, è partito il Toto Quiz su un argomento che ormai è uno dei più cliccati dell'ultima settimana e soprattutto è molto discusso in giro, ovvero la probabile uscita sul mercato di un refresh dell'RTX 4000, ovvero una 4080 Super e una 4070 Super, il che non si sa quando, non si sa come e non si sa probabilmente neanche il perché, poi ne parleremo di questo, ma fatto sta che quando iniziano a girare queste voci al 99% è vero, cioè l'RTX 5000, quindi la futura generazione, è ancora abbastanza lontana nel tempo, quindi se ne parlerà almeno fra un anno, se non addirittura a gennaio-febbraio del 2025. Quindi ci sta che in questo momento Nvidia sta programmando il lancio di qualche nuova SKU e quindi di qualche nuovo chip per rinfrescare un po' il parco Nvidia che già è bello sostanzioso, soprattutto al di sopra della 4070, già abbiamo un po' di schede, 4070 Ti, 4080, 4090, ma sembrerebbe che Nvidia si prepari appunto a lanciare un nuovo modello di 4080 Super e un nuovo modello di 4070 Super. La discussione nella quale poi in questi giorni si è anche andato ad intrufolare, come sempre, il nostro carissimo Copa 8-7 Kimi è sulla questione VRAM, perché si parla di una 4080 Super con 20 GB di VRAM e una 4070 Super con 16 GB di VRAM, il che sarebbe una scheda, diciamo, con un boost in più, almeno dal punto di vista della VRAM, visto che la 4070 liscia, come sapete, è bloccata ai 12 GB. Cosa che a me non dispiace, cioè vi ho parlato più volte del fatto che in realtà oggi con 12 GB, se i giochi non sono proprio rotti e sono abbastanza ottimizzati, bastano anche per giocare a risoluzioni un po' più elevate, però il punto qual è? Il punto è che non è che si passa da 16 a 20 e da 12 a 16, giusto andando a saldare due chip in più di RAM, ok, sul PCB. Si tratta che la quantità di RAM sulle schede video, e questo è un concetto che qualche volta già vi ho portato in qualche video, dipende anche dal bus, ok? E il bus dipende dal chip. Per andare a mettere 20 GB su una 4080 Super servirebbe un chip con almeno, penso, 320 bit di bus memory. L'unico chip che può fare questo è la D102, cioè lo stesso chip della 4090. Mentre sulla 4070 Super si dovrebbe passare alla D103, che consentirebbe di installare 16 GB di RAM. E questa cosa io penso che sia abbastanza improbabile, vi dico la verità, anche perché poi dopo si andrebbe ad avere delle schede video un po' miste, un po' dei Frankenstein, cioè noi andremo ad avere una 4080 Super che ha lo stesso chip della 4090, ok? Con un quantitativo di VRAM buono, ma sarebbe differente dalla 4080 che invece monta un chip a D103. E questa cosa, sinceramente, non so quanto potrebbe essere, diciamo, veritiera. E anche lo stesso Copait ha dei dubbi su questa cosa. Sicuramente saranno delle schede migliori della 80 e migliori della 70 liscia. Però già la 4070 Super, secondo me, è una scheda molto al limite, perché si va ad incastrare fra la 4070 Ti e la 4070. E noi già in passato abbiamo visto una cosa del genere, quando fecero praticamente la 1660, la 1660 Super e la 1660 Ti. Erano schede video di fascia bassa, questo è vero. Voglio dire, è una scheda che andrebbe considerata se il prezzo è simile alla 4070 e se effettivamente può avere un vantaggio sia prestazionale che sicuramente avrà, e soprattutto per quanto riguarda la RAM. Ma poi resterebbe comunque la 4070 Ti l'acquisto migliore, perché si parla di una scheda comunque potente, con 12 GB e passa. E quindi è strano, ecco, da questo punto di vista, che una ipotetica 4070 Super possa andare ad avere 16 GB. Perché significherebbe avere più giga, ok, della 4070 Ti, che in questo momento è ferma a 12. La 4080 Super anche sarebbe un'ottima scheda se fosse da 20 GB e se avesse un buon prezzo e se avesse un vantaggio prestazionale rispetto alla 4080. Ovviamente tutte queste considerazioni poi le andremo a vedere nel momento in cui usciranno queste schede. Allora il concetto è sempre lo stesso. Il concetto generale che ovviamente può esserci un po' di hype, può esserci un po' di interesse verso nuove schede del genere, ma sono dei refresh, quindi facciamo sempre un po' attenzione, perché il parco schede di NVIDIA è un parco già abbastanza costoso e comunque già abbiamo delle schede che sono molto potenti. Chi vuole fare un salto magari dalle performance della 4070 e andare su potrebbe effettivamente considerare l'acquisto di una 4070 Super per avere qualcosa in più e non andare a spendere i soldi della 4070 Ti, che l'abbiamo sempre detto, non si posiziona bene oggi sul mercato perché continua a costare 850-900 euro e non è proprio una delle migliori schede come è posizionata, nonostante sia un'ottima scheda dal punto di vista delle performance. Ma chi spende 1200, raga, 1300, pena 4080, cioè o si va a sostituire completamente la 4080 su quella fascia e quindi uno spende gli stessi soldi, 1300, per prendersi una Super e come abbiamo visto, non so, vi ricordate nel caso della 2080, c'era la 2080, uscì la 2080 Super, il prezzo era molto simile e c'era un distacco netto con la 2080 Ti e quindi le persone giustamente andavano a comprare la 2080 Super ma se il prezzo è molto più elevato, il distacco con la 4090 non è poi così evidente quindi si parla di 200-300 euro di differenza, tal più capite che voglio dire in questo momento è difficile andare a valutare una cosa del genere. L'utilità di queste schede sul mercato non è altro che dare un refresh, una rinfrescata alla line-up mentre che Nvidia si prepara poi l'anno prossimo o a inizio 2025 a sganciare il bombolone. Per quanto riguarda ovviamente le build vedremo, come vi ripeto, poi una serie di PC da 1000, 1200, 1400 nella fascia bassa continua a predominare MD, questo è sacrosanto, in questo momento queste nuove schede riguardano già una fascia di PC oltre le 1000 euro siamo abbondantemente sopra le 1200, 1300, 1400 e quindi non ci toglie nulla per quanto riguarda la fascia minore. Questa 4060Ti da 8GB è qualcosa che non si può guardare nonostante 8GB per il Full HD siano ancora buoni oggi però al prezzo a cui viene venduta a me piacerebbe vedere una scheda intorno alle 300-350 euro completa. completa di performance, completa di VRAM e la 4060Ti da 8GB non lo è la 4060 mantiene dei vantaggi se acquistata sotto determinate cifre ma sarebbe stato pure bello poter vedere magari una 4060 Super con 10GB di VRAM questa cosa ve lo dico non la vedremo mai perché sulla fascia bassa Nvidia sta cercando di tagliare ormai un po' fuori dal mercato tutto perché ancora diciamo campa tra virgolette di 3060, 3060 Super, ancora campa di GPU di passata generazione l'abbiamo visto anche dai report, dalle statistiche Steam che sulla fascia bassa 1080p predominano quelle schede lì vedremo cosa succede, io vi terrò sicuramente aggiornati, c'è molto interesse sempre e comunque quando escono nuovi prodotti del genere io vi ringrazio di essere stati come sempre qui con me, lasciate un commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi